Questa merenta di beneficenza viene fatta per raccogliere dei soldi per donarli a un'associazione Save the Children. È una buona e giusta abitudine quella che viene portata avanti ormai da anni nell'istituto comprensivo Martiri di Civitella nella Valdichiana a Retina. È una tradizione che si rinnova appunto, quindi loro la conoscono perché dalla scuola primaria, quindi Gianni Rodaria, Scigiano e d'Arcobaleno a Tegoleto, loro crescono ogni anno con questi momenti di solidarietà di cui poi informiamo le famiglie della cifra raccolta, i ragazzi delle cifre raccolte e delle istituzioni che andiamo a sostenere. Una colazione solidale dalle elementari alle scuole medie due volte all'anno, durante la quale gli studenti non portano la colazione da casa, ma mangiano pane ed olio ed offrono attraverso la generosità delle loro famiglie una piccola somma di denaro in favore di un'associazione. Quest'anno è stata scelta Save the Children. Avvicina i bambini a altri bambini che sono in difficoltà. È importante quindi far capire a loro che non esiste solo la realtà quotidiana di tutti i giorni che vivono in casa o in famiglia, ma anche delle persone che hanno bisogno e quindi hanno bisogno anche del loro sostegno e del loro aiuto. E così fin da piccoli si comprende che tendere la mano è un gesto facile ma che può fare la differenza per tante persone. Che aiuta i bambini in difficoltà. Per comprare i vaccini. Perché ancora in molti paesi non ci sono i vaccini. E molti bambini vogliono di fame e di malattie.